Il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza di via Firenze. Il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza di via Firenze. Previsto il taglio di otto alberi per far spazio a un nuovo tratto di pista ciclopedonale. Dopo Viale Montegrappa è la volta di via Firenze. Stamani hanno preso inizio i lavori per il taglio di otto tigli lungo la sede stradale. L'intervento fa parte del progetto di riqualificazione messa in sicurezza di via Firenze, una delle strade della città col più alto tasso di incidenti attraversata ogni giorno da 22.000 veicoli. In particolare è prevista la realizzazione del secondo lotto della pista ciclopedonale da via Poggio Castiglioni in direzione La Querce. La nuova pista, una volta completata, andrà a collegarsi con il primo tratto inaugurato lo scorso anno che dall'ex chiesino, l'oratorio di Santa Maria Maddalena, arriva fino a via Poggio Castiglioni. L'intervento era stato programmato da tempo ma l'amministrazione comunale ha deciso di aprire il cantiere a scuole chiuse per ridurre i disagi al traffico, deviato in direzione della declassata. Il comune di Prato fa sapere che gli otto tigli abbattuti, situati quasi tutti sul lato a Calvana, saranno poi ripiantati nell'area verde adiacente alla ferrovia di fronte a via Poggio Castiglioni dove sorgerà un parcheggio che l'amministrazione comunale ha ottenuto, incomodato d'uso gratuito dalla città metropolitana di Firenze e dalla rete ferroviaria italiana. Il progetto di riqualificazione di via Firenze, finanziato con 380.000 euro dal Ministero dell'Ambiente, prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi e di una zona 30 davanti al circolo Costa Azzurra-Lamacine. Compra un palazzo e si ritrova un inquilino a nero ma la ex proprietaria nega e fioccano le denunce incrociate. Ascoltiamo questa storia su cui sono aperti vari procedimenti civili e penali. Un muratore a cui avevano affidato dei lavori di manutenzione nel settembre 2017 si insedia con la sua famiglia nell'appartamento di proprietà di una di loro e nel gennaio 2019 fa registrare all'Agenzia delle Entrate un contratto verbale di locazione, denunciando di essere un inquilino a nero, continuando ad occuparlo. È la situazione di cui raccontano di essere vittime due signore pratesi, madre e figlia, che si sono rivolte alla nostra redazione per riferire il caso. Un caso complicato e controverso, oggetto di procedimenti penali e civili incrociati, che vedono il muratore fornire una versione diametralmente opposta, quella di avere titolo come affittuario a rimanere nella casa e di essere stato calunniato dalla controparte. A rendere ancora più intricata la questione c'è un terzo soggetto, il nuovo proprietario dell'appartamento, passato di mano nel marzo 2018, assieme ad altre unità immobiliari. Nuovo proprietario che vorrebbe avere libera la disponibilità dell'appartamento e ha fatto causa all'ex intestataria. La figlia di quest'ultima, la quale non è mai stata proprietaria dell'appartamento, rischia da parte sua di subire le conseguenze fiscali della dichiarazione del muratore all'Agenzia delle Entrate, visto che è stata indicata lei, e non la madre, quale locatrice della casa. Nel farlo, il muratore ha prodotto tre ricevute relative ai mesi di settembre e dicembre 2017 e di gennaio 2018, secondo lui una prova dell'affitto a nero a 500 euro al mese pagato, secondo loro un falso. Saranno le perizie grafologiche e i magistrati a dover sbrogliare la matassa e accertare la verità. Un primo provvedimento disposto dal giudice di pace, un sequestro amministrativo chiesto dal legale della donna, non è stato eseguito perché sono emersi elementi a favore del muratore. Quanto alla registrazione del contratto verbale di locazione, dall'Agenzia delle Entrate si fa notare che questo tipo di atti costituiscono dichiarazioni unilaterali, registrati senza particolari attività istruttorie a fronte del semplice pagamento di una piccola imposta, che possono avere conseguenze fiscali per i soggetti interessati, ma non hanno nessun valore civilistico. Non è di per sé questo documento, insomma, a costituire un titolo legale che consente all'uomo di rimanere con la sua famiglia all'interno dell'abitazione. E adesso la cronaca. Erano scappate da due centri educativi, situati rispettivamente a Firenze e a Massa Marittima, dove erano state collocate su ordinanza del Tribunale dei Minori di Firenze. Si tratta di due ragazze che la Polizia Ferroviaria di Prato ha identificato ieri su un treno Intercity proveniente da Trieste, in seguito ad una chiamata del capotreno, che al controllo biglietti aveva trovato due minori appunto sprovviste di titolo di viaggio e di documenti personali. Gli operatori della Polfer, con l'ausilio della Banca Dati Interforze in uso alle forze di polizia, hanno appurato che entrambe si erano allontanate dai due centri di educazione. Le giovani hanno affermato che la causa dell'allontanamento è stata la volontà di trascorrere qualche giorno di vacanza. Sono state quindi riaccompagnate dagli agenti della Polizia Ferroviaria presso le strutture di provenienza. Dall'inizio del 2019 sono complessivamente 47 i minori non accompagnati, rintracciati dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, e successivamente affidati a parenti o ad appositi centri. Voltiamo pagina. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Gianni, promuove il lavoro dell'Assemblea e rivolge l'attenzione agli ultimi mesi di legislatura. È sul bando per la riqualificazione delle città murate e chiede alla Giunta regionale una legge strutturale. Ascoltiamo. La legge sull'attività estrattiva, il Consiglio straordinario nell'area geotermica, i bandi per le città murate e la legge sulle celebrazioni per Cosimo de' Medici. Sono alcune delle tematiche affrontate nella prima parte del 2019 dal Consiglio regionale e rivendicate dal presidente dell'Assemblea, Eugenio Gianni, in una conferenza stampa per fare il bilancio sull'attività dell'Aula. Gianni ha espresso soddisfazione per l'andamento dell'attività del Consiglio regionale, sottolineando gli atti approvati nelle ultime occasioni a luglio. Negli ultimi mesi devo dire che il Consiglio regionale della Toscana ha agito molto e ha agito bene. Se noi pensiamo che nelle ultime occasioni di incontro del Consiglio regionale a luglio sono stati approvati atti significativi, come quello sulla legge che riguarda le cave e quindi l'attività estrattiva in tutta la Toscana, con un'affermazione di grande identità per quanto riguarda la geotermia, vediamo un'attività del Consiglio molto feconda. In questi giorni prima della pausa estiva invece sono scaduti i termini per i bandi delle città murate, un milione di euro che il Consiglio ha destinato per la riqualificazione dei camminamenti turistici e la valorizzazione del sistema di richiamo storico. Sono stati presentati dai comuni, perché era esclusivamente dedicato ai comuni, 44 progetti. Noi riusciremo a sostenerne almeno 12-13, però è indubbio che la domanda rispetto a quello che abbiamo offerto è una domanda molto significativa e questo ci impone e lo farò alla Giunta di richiamare il fatto che con una legge non degli avanzi d'amministrazione, ma strutturale, che ogni anno stanzia dei fondi si possa dare risposta a questo. Gianni ha poi ricordato la legge sulla prologo e quella che riguarda i 500 anni dalla nascita di Cosimo De Medici che, ha detto, stanno andando bene, infine allo sguardo proiettato agli ultimi mesi di legislatura. Un'attività del Consiglio molto fervida che si accompagna a quello che saranno gli 8-9 mesi di ulteriore legislatura da settembre, dove cercheremo proprio sul campo del sociale, della cultura, del turismo, dell'economia e del lavoro, dell'innovazione e delle prospettive che l'ambiente ci richiama, a partire da quella legge sul plastic free, che impegnerà 350 mila euro da parte del Consiglio regionale, a dare un senso compiuto a un Consiglio regionale che è davvero fatto molto e che si prepara a concludere nel modo migliore una legislatura. Ritrova la bici che gli era stata rubata e chiama la polizia. È accaduto ieri alle 12 in via Gagarin, dove gli agenti sono intervenuti sul richiesta del legittimo proprietario del velocipede su cui è stato trovato a bordo un 31enne di nazionalità cinese. Quest'ultimo fermato dalla polizia è risultato essere privo di documenti e clandestino. Ha dichiarato di aver acquistato la bicicletta alcuni giorni addietro da uno meglio identificato cittadino nordafricano. Accompagnato in questura, il 31enne è stato fotosegnalato, denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le procedure espulsive. E adesso è il momento delle previsioni meteo, quindi linea al Consorcio Lamma. Un saluto dalla sala meteo del Consorcio Lamma. Le immagini del satellite mostrano l'arrivo di aria più fresca da ovest associato ad aria a una perturbazione atlantica, aria più fresca ma anche più instabile. Lo vediamo in questa diapositiva, prevalenza di cielo nuvoloso nella seconda parte di oggi martedì con possibilità di qualche rovescio in provincia di Arezzo soprattutto. Le temperature per quest'oggi in flessione rispetto a quanto registrato ieri sono comunque attesi, valori fino a circa 33-34 gradi nelle pianure dell'interno. Per domani mercoledì, notte tempo, prime ore del mattino, ancora qualche nube lungo la fascia costiera con possibilità di residui rovesci, poi spazio per ampie schiarite lungo la costa mentre nell'interno formazione di qualche nube associato a brevi rovesci o temporali più probabili sulle zone prossime a rieri. Temperature per domani in ulteriore flessione fino a riportarsi sui valori consoni a quelli di stagione. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione. È tutto anche per noi, il Tg torna stasera in diretta alle 20.30. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.